All'apparire della stella i magi provarono una grandissima gioia. Epifania, festa della luce e festa della gioia per il dono della fede. Lasciamo da parte per qualche istante le immagini della Befana, di Babbo Natale, le luci sfavillanti della pubblicità natalizia e del consumismo di questi giorni, e andiamo con animo libero e semplice al presepio, così caro a Papa Francesco e da lui incoraggiato. Presepio che oggi si arricchisce della stella e di tre famosi personaggi, i re e magi. La luce. Il popolo che camminava nelle tenebre e cantava Isaia, vide una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. E il Cristo dell'Apocalisse si definisce come la stella radiosa del mattino. E mentre a Roma si festeggiava negli stessi giorni il Dio Sole e si accendevano nella notte fuochi di gioia, e il popolino romano si prostrava verso il sole che sorgeva all'alba, la Chiesa si adunava per celebrare la manifestazione, ossia l'epifania del vero sole, Cristo. E da allora, da duemila anni, ogni domenica nel credo, proclamiamo solennemente Gesù, Dio da Dio, luce da luce. Nei re magi, che in antiche rappresentazioni sono raffigurati come un giovane, un uomo nella piena maturità e un anziano, e ancora come un asiatico, un europeo e un africano, siamo invitati a vedere tutti i popoli della Terra, compresi noi, ai quali è stato concesso di contemplare questa luce che non conosce tramonto e di giuire del dono della fede. Dietro a loro, a questi tre re magi, dobbiamo oggi vedere circa un miliardo e ottocento milioni di cristiani sparsi in ogni parte del mondo. Ma bisogna fare ancora posto, molto posto, perché non sappiamo il numero esatto di tutti coloro che in modi misteriosi e per vie che Dio solo conosce sono stati abbagliati dal fulgore della grazia di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino, giungano alla conoscenza della verità ed entrino a far parte della sua Chiesa. Diversi sacerdoti mi parlano, nel paese dove mi trovo, di richieste di conversioni sempre più frequenti al cristianesimo. «Allarga i tuoi confini, Sion», esclama allora il profeta Esaia nella sua visione di moltitudini di popoli che salgono al monte del Signore. «Gioissi, Gerusalemme, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio». E San Giovanni dell'Apocalisse parla di una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Gesù stesso, dal resto, l'aveva detto «Vorranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Ceni». Ma che cosa ci sta dicendo questo Vescovo, potrebbe qualcuno obiettare. Le nostre Chiese diventano sempre più spaziose e comode. Mancano i bambini, mancano i giovani. «Alza gli occhi, Sion, i tuoi figli vengono da lontano, uno stuolo di cammelli ti invaderà, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra». Da quarant'anni il Signore mi ha concesso di essere al servizio del Papa in varie enunziature apostoliche, in quattro continenti e in circa venti nazioni. La maggior pasta di questi paesi, dove sono stato e dove sono tuttora, sono nazioni in via di sviluppo, con gente meno fortunata di noi, semplice, che trova gioia e consolazione nella fede. Ai poveri è più facilmente concesso questo dono e questa gioia, mi faceva giustamente osservare una persona. Ho vissuto il Natale a tutte le latitudini, al freddo e al caldo, nell'emisfero nord, con fedeli che prendevano un brilè caldo dopo la Santa Messa di mezzanotte, oppure una bevanda fresca e un gelato ai tropici. Ho avuto occasione di presiedere a liturgie eucaristiche molto belle e partecipate, spesso ai tropici, a cielo aperto, perché la Chiesa e la Cattedrale non riusciva a contenere tutte le persone, fedeli venuti ore prima, da lontano, canti, danze e riti simbolici molto sentiti che esprimevano gioia. Una volta, nella savana, presso un santuario mariano, mi chiesi come mai la Santa Messa fosse durata meno del solito. Guardai l'orologio, quattro ore. È vero, ho avuto la gioia di constatare, come agente semplice è più facilmente concesso il dono e la gioia della fede. Da undici anni mi trovo ora a partecipare a liturgie orientali che hanno un loro fascino particolare. Ognuna di queste liturgie, compresa, ben inteso, quella latina, cerca di avvicinarsi, per quanto può, al mistero inesprimibile e affascinante di Dio. Questo modo di esprimere in varie forme la stessa fede di pregare e lodare Dio è quella che si potrebbe dire l'inculturazione della fede. E così ciascun popolo, ciascuna lingua e ciascuna cultura porta in questa maniera i propri doni al Signore, oro, incenso e mirra. E tra questi doni non manca il profumo del martirio. Il Vangelo di oggi ci racconta delle trame crudeli del re Erode per eliminare il bambino Gesù facendo strage dei piccoli di Betlemme. Testimonianza e profumo del martirio che continua ancora ai nostri giorni. Papa Francesco ci ricorda spesso che i martiri di oggi sono più numerosi di quelli dell'antichità. Si parla di decine di milioni di cristiani perseguitati a vario titolo, dall'effusione del sangue a varie forme di discriminazione. Cristiani perseguitati per dirla con Papa Francesco anche in guanti bianchi alludendo a varie forme di discriminazione anche in continenti dove non si pensa che ciò possa accadere. Vengo da un paese la Siria e da una regione il Medio Oriente che ha visto in questi anni questa bella testimonianza del martirio. Cristiani che sono stati crudelmente uccise mentre partecipavano alla Santa Messa questo in Medio Oriente in Africa e in Asia e tra queste numerose testimonianze va annoverata anche quella di 29 tra preti religiose e religiose uccisi per la fede nell'anno appena conclusosi. Verona stessa venera il suo patrono San Zeno con il titolo di martire per il suo indefesso ministero di pastore inoltre Verona ricorda San Pietro martire e i santi fermo e rustico uccisi no di un fidei sulle sponde dell'Adige. La festa odierna oltre alla gioia per il dono della fede ci ricorda anche il nostro impegno di testimoniarla con la parola e con la vita a cominciare dalla famiglia piccola chiesa voi carissimi genitori dovete essere i primi testimoni e catechisti dei vostri figli essi sono spesso abbagliati da tante luci che poi tutto ad un tratto si spengono indicate loro la stella che non tramonta e che sola può dare la vera gioia non portateli in chiesa solamente il giorno del battesimo o bianco vestiti nel giorno della loro prima comunione eccresima non lasciate che si smarriscano e perdano il senso del Natale dietro a Befane e Babbi Natale non abbiate paura di venire insieme alla Santa Messa Domenicali i vostri bambini sono fiori bellissimi e profumatissimi diceva il nostro patrono San Zeno dopo ogni battesimo che amministrava portate questi vostri fiori bellissimi e olezzanti di suave profumo ogni domenica nella vostra chiesa parocchiale la loro fede semplice e genuina è un profumo particolare nelle vostre case e nelle nostre chiese Papa Francesco ci sprona ad essere missionari chiesa in uscita verso le periferie geografiche ed esistenziali ripete spesso vengo dalla Siria come ho ricordato dove il giovane Saulo Paolo dopo l'illuminazione sfolgorante del Signore risorto apparso sulla via di Damasco da persecutore dei cristiani divenne l'Apostolo delle Genti a lui come ci testimoni egli stesso nella seconda lettera di oggi fu concessa la grazia e missione di annunciare il Vanceolo alle Genti e proprio da Antiochia di Siria intrapese i suoi viaggi missionari verso i pagani per sua stessa costituzione la chiesa è missionaria Verona è stata portata al battesimo da San Zeno che forse proveniva dal Nord Africa ma certamente da fuori Verona e Verona si può dire che ha ricambiato e può dirsi orgogliosa del titolo non solo di fedele ma anche direi missionaria tra i numerosi santi e beati veronesi vorrei ricordarne due senza dimenticare gli altri altrimenti la mia omelia diverebbe troppo lunga che hanno avuto un particolare carismo missionario e i cui figli e figlie ho incontrato in varie parti del mondo San Daniele Comboni l'Apostolo dell'Africa e Santa Maddalena di Canossa le cui figlie ho incontrato in Estremo Oriente e che dire degli attuali circa 450 veronesi in missione in varie parti del mondo quattro vescovi tra i quali per grazia del Signore anche chi vi parla sacerdoti religiosi religiose e laici impegnati che qua e là ho incontrato e di cui ho ammirato la generosa dedizione alza gli occhi Sionghi i tuoi figli vengono da lontano portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore alza gli occhi chiesa di Dio e rallegrati alza gli occhi e rallegrati chiesa di Dio in Verona vengano da Madian Efa e Saba sono qui oggi venuti per vari motivi da diversi continenti e paesi portando i loro doni l'espressione gioiosa e folclorica della loro fede ringrazio il Centro Missionario Dio Cesano per tenere viva questa fiamma dello spirito missionario per i collegamenti che mantiene tra gli evangelizzatori per la pastorale degli immigrati per la bella vivace gioiosa e colorita annuale celebrazione della solennità dell'epifania con tanti nostri fratelli e sorelle originari di tante parti del mondo vogliamo pregare anche per coloro che non hanno ancora ricevuto il dono e la gioia della fede e chi per varie cause lo ha smarrito il cammino impervio di ricerca dei magi ci indica che talvolta non è facile credere ma la loro storia di ricerca sincera ci assicura che Dio viene incontro e si fa trovare e la strada non conduce e non si perde nel deserto ma porta secondo la grandiosa visione di Isaia al suo monte santo a cui sono invitate tutte le genti e dove come dice il profeta e il salmista Signore Tu prepari davanti a me una mensa e il mio calice trabocca trabocca di gioia Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti